Presidente De Cillis, quali sono i risultati che emergono dalla vostra attività di monitoraggio di questi esiti elettorali? Beh, innanzitutto abbiamo seguito la gestione della par condicio in ambito regionale, come sappiamo il Comitato regionale per le comunicazioni Corecom si occupa degli emittenti radio televisivi locali, quindi in questo ambito devo dire che la campagna elettorale è stata tutto sommato pacata, i toni sono stati morbidi e non abbiamo evidenziato alcun tipo di sforamento. È interessante invece l'attività in ambito nazionale. Diciamo che il Corecom è l'organismo territoriale dell'Agicom e dall'ultima ricerca dell'osservatore sulla disinformazione online, il terzo numero che è stato pubblicato proprio ad aprile, ci sono alcuni dati interessanti. I fatti di cronaca di disinformazione sono rilevanti a livello di quasi il 40%, in ambito di fatti di politica circa il 12%, ma la tematica sulle elezioni europee riguarda solo l'1% dei casi di disinformazione rilevati. Questo ha una doppia valenza, innanzitutto una molto positiva che vuol dire che questi sistemi sono efficaci, d'altro canto invece si evince che probabilmente sono stati anche poco interessanti le tematiche di disinformazione a livello delle elezioni europee, ma anche che probabilmente fare disinformazione a livello nazionale è più facile e fare disinformazione a livello internazionale richiede delle politiche di disinformazione molto più complesse.